Eccoci qui ragazzi, sono Goldrake e come vedete oggi siamo qui in un nuovissimo video E oggi ragazzi siamo qui in un nuovissimo LTS, ottavo della serie Allora, non c'è, c'è, è tutto pagato raga Non c'è la mappetta, ok eccola, eccola Vai ragazzi andiamo, 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 come se nulla fosse noi Andiamo, ehm, Galak Allora, carissimo Galak Allora, dopo raga gli mandiamo un bel messaggino, eh, perché non mi è piaciuto, non mi è piaciuto Vabbè sono andato un po' troppo veloce forse, eh Comunque raga vediamo ora quello che riescono a fare i nostri compagni Ok ragazzi, tutti i nostri compagni sono stati uccisi Per ultimo è stato ucciso un suino che purtroppo un avversario aveva citato Quindi round perdente prossimo round Secondo round ed ora ragazzi abbiamo le Italy GTB E dobbiamo cercare di investire tutti raga Io vorrei investire subito Galak Perché Galak mi ha ucciso prima Quindi ora si merita una bella, una bella, bella, come si dice Lezione, forse l'ho preso Forse l'ho preso No, vabbè, si è suicidato, non fa niente Attenzione No, 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 non l'abbiamo preso Non l'abbiamo preso Oh, oh Non ci credo Non ci credo Ce lo siamo portati a spasso praticamente raga Ce lo siamo portati a spasso Ia Si Galak Si Si Abbiamo ridotto in poltiglia Galak E già questo raga E' una bellissima vendetta Allora direi subito di andare e cercare di uccidere anche gli altri Gli ultimi superstiti Allora andiamo intanto qui Qui Eh lo sapevo che andavi indietro Lo sapevo Anche te sei morto E anche te sei morto No, vabbè raga Stiamo facendo la strage Non è morto? No No, dai raga Impossibile che non è morto Forse Forse l'avevo buttato sulla piattaforma Boh, comunque raga Stiamo facendo il delirio Davvero Il vero e proprio delirio Ne abbiamo uccisi tutti? Si, perfetto Quindi ragazzi Round Non ci dà round raga Oggi non ci vuole dare il round Guardate come si bugga Ok, vediamo Forse ora No Ha cambiato solo la visuale Dai, dacci questo round Non ci... Ok, round vincitore Prossimo round Terzo round Ed ora ragazzi Dobbiamo correre Ma prima voglio fare Una cosina Ok ragazzi Ora possiamo andare Direi di andare subito Ok Attivare la registrazione Ok No ma raga Stanno Stanno citando Eh vabbè Eh vabbè Mi hanno colpito Mi hanno colpito Via 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 Ora cosa posso fare Cosa posso fare Guarda via Via Eh no Rai niente raga Niente di niente Mi hanno ucciso Di nuovo Devo dire che È molto difficile Arrivare alle armi Anzi È quasi impossibile Anche C'è da far caso Anche che Loro Cittano Quindi Direi che Siamo molto Molto Svantaggiati Comunque raga Vediamo ora Cosa riescono a fare I miei compagni Ma credo Poco Dato che Siamo in due Sono in due Contro Otto Ok Gli Avversari Avevano Di nuovo Cittato Quindi Signori Questo round È Perdente Ve lo dico Però Non esce Ok Round Perdente Prossimo round Quarto round Ragazzi E siamo pronti Per Cercare Di nuovo Di investire I nostri Avversari Allora Andiamo qua E prepariamoci Prima ragazzi Abbiamo fatto il devasto Abbiamo ucciso Un sacco di gente Qua Speriamo Di fare La stessa Cosa Allora Intanto qua La prima volta Abbiamo Sbagliato Il salto Quindi ora Dobbiamo risalire Ok E andiamo veloci Perché Dobbiamo vedere Chi prendere Ok 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 No 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 Non ci credo Non ci credo Mi hanno trollato Mi hanno trollato Ok Qua Vai Così Via Ok Forse l'abbiamo preso Certo che l'abbiamo preso Via qua Via te Via 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 Ok Ok abbiamo ridotto In portiglia Colui Non dico il nome Perché non Non lo so Comunque Questo qua sta cercando di andare troppo in fretta Per i miei gusti Ma non l'abbiamo ucciso Ma non Ma non ci credo No vabbè raga Non l'abbiamo preso Veramente No raga Non facciamoli arrivare alle armi Eh Non facciamoli arrivare Attenzione raga Perché uno sta arrivando Dobbiamo andare 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 Chi è che resta Uh Quasi tutti morti Però Questo È in vita Via 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 E l'abbiamo ridotto in portiglia Intanto ho cambiato La radio per sbaglio Però Ok 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 Forse l'ho preso Sì Perfetto Mamma mia raga Abbiamo fatto Mi sa 5 kill Mi sa 5 kill Comunque Abbiamo vinto Questo round Quindi Non ci dà round vincitore Perché Come tutti i round Ok Round vincitore Prossimo round Ultimo round Ed ora ragazzi Dobbiamo cercare di correre Nuovamente Ok Eccole qua le pistoline Raccogli Ok E dobbiamo cercare raga Di fare Un po' meglio Dato che I round Precedenti Sono andati Veramente male Allora qua Andiamo Qua Dai 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 Vai 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 Corri 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 Ok Va benissimo Qua mettiamoci così Ok Ok Perfetto vai Ron Corri 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 Ok Perfetto Perfetto Anche qua ci siamo Ora qua però Dobbiamo stare attenti Ok Vai 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 Ok Perfetto Fino qua ci siamo Anche qui Ok Perfetto Abbiamo fatto la capriola E siamo riusciti a scappare Dai nostri nemici Ora Vai via Ok Perfetto 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 Fino qua ci siamo Fino qui ci siamo Vai 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 Corri 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 Salta Ok Perfetto Ora andiamo anche qui Vai Vai Ok Ora vai 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 Forse non mi sta guardando nessuno No Galak maledetto Galak maledetto Ero alle fottute armi Ero alle fottute armi Non ci posso credere Non ci posso credere raga Forse uno è arrivato però eh Forse uno è arrivato Grandissimo Grandissimo il mio compagno E però ora devi ucciderli eh Devi cavolo ucciderli Ok ragazzi Il nostro ultimo compagno è morto Purtroppo noi non siamo riusciti a arrivare alle armi Perché ci hanno ucciso all'ultimo Però comunque spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un pollicione su Iscrivetevi se non siete iscritti Noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti.